Nel Sannio contagi lieve calo nelle ultime ore ma in attesa di una fornitura di vaccini che possa far avanzare il dato sugli over 80 immunizzati, le attenzioni di aslo ospedali e laboratori di analisi si sono concentrate sulla ricerca di persone positive a qualche variante del covid. Per quanto riguarda le scuole invece ancora classi in isolamento a Castelpagano, San Giorgio del Sannio e Durazzano. A Benevento invece gli istituti di ogni ordine e grado dopo lo stop intimato dal sindaco Mastella anche per il maltempo dovrebbero riprendere giovedì. Mi avete sentito nei giorni scorsi parlare a più ripresa attenta alla variante, sembrava che non ci fosse a noi. Ora può darsi che al momento non ci sia ma potete pensare che se il 20-25% in Italia è a variante inglese e spaventosamente si insinua anche quella sudafricana che non risponde neppure ai criteri pari del vaccino mentre invece quelli inglesi vi sono stati tranquilli che i vaccini riescono a metterla da parte e metterla al bando. E' ovvio che bisogna tutti quanti nell'istituzione lavorare e vedere che cosa fare, non gridare subito dicendo perché si è chiusa la scuola, perché si è fatto questo o l'altra misura. Il primo cittadino poi tuona contro coloro che hanno criticato la scelta di chiudere le scuole e avverte. Insisto, siamo attenti tutti, andiamo a fare le nostre cose, tutti quanti conservando la mascherina. Noi faremo credo il più presto possibile anche questo nuovo screening e quindi inviteremo tutti, soprattutto quelli che hanno contatti con il pubblico, i dipendenti nostri.